perché è difficile parlare del proprio intimo perché vuol dire avere una grande forza interiore e d'altra parte imparare qualcosa dalla reazione degli altri a ciò che si comunica Grazie a tutti Perché è difficile parlare del proprio intimo? Perché vuol dire avere una grande forza interiore e d'altra parte imparare qualcosa dalla reazione degli altri a ciò che si comunica. Grazie a tutti.